Guarda chi arriva! Guarda chi arriva! Era ora, eh? Gli ho messo una ciotola di acqua fredda con i ghiaccini anche lì, di sotto, oltre alla fontanella che gli piace sempre molto. D'estate vi consiglio di mettere più ciotole di acqua con i ghiaccini dentro. Vedi, è entrato e è andato lì. Scusate ma casa mia fa schifo perché io non ho la forza, vi giuro, di pulire. Però pulisco. Oggi ho pulito il frigo, per esempio. Penso che è domenica di vacanza gasante. Pulire il frigo. Ne aveva bisogno. Sentite il rumore che fa coso? Però anche la funzione slip funziona. Dopo va silenzioso. Però quando la temperatura non è come dice lui, si rimette in moto così velocemente, rumorosamente. Però dopo va anche in modalità silenziosa. Io ho sia quello che questo, per dirvi il livello. E poi sono una a cui piace il caldo. Eh, penso un po'. Mosi. 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 Che settona che avevi. Mosi. 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 E' un po' rimbarimba, rimbambito anche lui. Vivo lento, ma ci sta troppo tempo lì, non pensavo. Mosi. 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 Ma quanto vedi? D'altra parte, stando steso lì nel brecciolino. Nella polvere gli verrà anche sete. Mosi, movimentiamo un po' questo video, sennò la gente non si iscrive. Sembra... Cos'è sta roba qua? Dai! Muoviti, fatti vedere. Mosini! Pensate che abbia stirato? Vi sbagliate. E' un mese che è lì quella roba. Questo è il nucleo di panni da stirare. Sono io coi piedi sopra. Vergogna! Questo è il video più brutto della storia del canale. Mosè. Mosè. Perdiamo iscritti qui, eh. Te lo dico. Oh, non è mai stato tanto là, in quel punto. Mosè, questo video sta veramente battendo il record della bruttezza, eh. Te lo dico. Cercherò di fare delle inquadrature per movimentare il video. Ecco. Mosi. Ancora. Scusa, quanti anni era che non bevevi? Non ho capito. Ecco, sto a pensiero, eh. Se bevi così, vabbè che è normale. Questo video è bruttissimo, adesso lo interrompo. Ascle delegato. Non ho capito. Ci assi.